Via Luigi Monti, la strada lunare, iniziano i lavori di riqualificazione. Iniziano i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di via Mario Monti, una delle arterie principali del popoloso Rione Pizzuta. Si tratta di un intervento vasto che riguarda non solo il rifacimento del manto d'asfalto, ma anche le opere di urbanizzazione primaria e consentirà di allargare la sede stradale e di realizzare il marciapiede oggi inesistente. L'importo complessivo dell'opera sfiora i 458 mila euro, spesa che sarà realizzata stornando la somma che il gruppo commerciale Fratelli Arena SRL è tenuta a versare al Comune come oneri di urbanizzazione per la realizzazione del supermercato ad angolo con via Professore Lino Romano. L'opera sarà realizzata dalla MMSRL di Siracusa. Via Monti, una strada a senso unico in direzione di Via Gela, passa davanti a due licei, Leinaudi e il Gergallo ed è vicino al presso di via Sbesta delle scuole Archie e Geracà. Oltre al rifacimento della strada, il progetto prevede la realizzazione della rete fognaria per le acque bianche, delle caditoie, dei collegamenti con la viabilità assistente, dei relativi barchi di ingresso e di uscita, la sistemazione dell'illuminazione pubblica e della segnaletica. Il marciapiede nascerà sul lato destro dell'essenza di marcia delle auto e sarà realizzato sulla parte sterrata, quindi senza intaccare l'ampiezza della carreggiata. Sarà largo un metro e mezzo, completo di scivoli per le persone disabili e di alberi. Inoltre, sono state previste le piazzole per la fermata dei mezzi pubblici. L'ampiezza della strada non comporterà variazione dell'essenza di marcia nel corso dello svolgimento dei lavori. Il settore trasporti e diritto alla mobilità ha emesso un'ordinanza che prevede il restringimento della carreggiata e la rimozione obbligatoria delle auto in sosta.